Ed è molto bello essere in onda in questo 20 giugno, sono già passati 8 giorni, mi sembra che il festival sia già per finire, ma non è vero, non è vero, andiamo avanti fino al 12 luglio. Buonasera dal Ray Band qui davanti a voi, Sherwood13 è l'hashtag per comunicare con noi, ma visto che oggi siamo particolarmente adolescenziali, persino io che sono ancora in pubertà, l'altro hashtag di oggi è l'Orso Band, perché l'Orso Band è il nome di questa Ray Band qui al mio fianco, e visto che The Bands era un album fortunato dei Radiohead, lascerei parlare invece alla TV, Mattia, buongiorno Mattia. Ciao Momo. Allora, ciao carissimo, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti io e te? Bisogna dirlo pubblicamente subito? Allora, l'Orso è una band, è un progetto, per dirla un po' al progetto Negramaro, che nasce nel 2010, in sostanza. Sì, le primissime cose sì. Le primissime cose nascono durante un tragitto che da Milano portava a Parigi alcune persone, di cui non farò i nomi, e mentre queste persone tentavano di guidare serenamente, come in una canzone di Celentano, c'era Mattia che suonava questo ukulele, convinto di essere Eddie Vedder, e continuava... In tema con l'immigrazione di oggi, tra l'altro, sembra il tuo racconto. E continuava appunto a scrivere canzoni. Che cosa è successo? Sono arrivati anche Giulio, è arrivata Gaia, è arrivato anche il buon Tommaso. Nel frattempo, questa è una formazione stanziale della band, si può dire, siete arrivati a un punto... Sì, siamo arrivati ufficialmente a decidere i posti in macchina e siamo noi qua. E allora, raccontami della tua band. Della mia già mi sembra... mi dispiace ragazzi. Comunque, siamo ufficialmente nati nel 2011, eravamo io e Tommaso e vari cambi di formazioni tra argentini e quant'altro. Nell'estate... dall'estate scorsa? No, dall'inverno... No, dall'estate... È passato un sacco di tempo. Il 7 settembre? Il 7 settembre, Gaia ha fatto il primo concerto con noi. Poi è arrivato Giulio un po' dopo, perché se la tira, quindi è arrivato dopo alla festa, come è logico che sia. No, il 7 settembre era l'incontro magico all'aeroporto. Ah, perché Gaia l'abbiamo recuperata da un aeroporto, così è stato molto romantico, come nei veri film americani. Aveva incontrato l'orso, è stato il posto di partire, ce l'ha partito. Come Tom Hanks nel terminale. No, tornavo dalla Sicilia, ma ci siamo quasi. Ok, ok. Ma insomma, in tutto questo, succede che c'è un miscuglio di temi adolescenziali, di serate milanesi da parte di trapiantati, si può dire, perché comunque c'è un eporediese qui alla mia destra. Bravissimo. Ogni tanto mi piace usare questo aggettivo imparato da Ivrea, che oltre ad aver fatto la Omnit, l'ha fatto anche qualcun altro, a quanto pare, e appunto il carissimo Mattia ci parlerà ora del tema della giovinezza, di questo fanciullino che continua a regnare dentro di lui, che continuano... Questi ragazzi, perché citate Dawson's Creek? È finito? No. Mi dispiace? No, no, no. No, è come Friends, mica finiscono. È finito? No, non è finito, Momo non è finito. Quando l'amico di Dawson non salza più, il sollevamento pesi è impossibile. E con questo... Quanto te l'hai ripreparata? Quante notti a studiare? E che io l'ho sentita già il check, mi sembra... Bravo, ci hai fatto il check sopra di questa. Bravo, bravo, chapeau, chapeau. Scusa per non rispondere alla mia domanda. Perché siamo giovani, intendi, o perché hai finito Dawson's Creek? Qual era la domanda? L'ho persa. Perché, allora, queste tematiche adolescenziali, torno nelle canzoni come via d'espiazione verso il peccato precedente, come sauna che vi permette di ripulirvi dal passato speso male come il tempo che non tornerà, non ritornerà mai. Assolutamente. Assolutamente la seconda che hai detto. Grazie, Tommaso. L'avrebbe detto qualsiasi fosse stata la seconda. Mi sembrava molto giusta la seconda. No, è che molti dei nostri brani arrivano da periodi... hanno già un'età, mettiamola così, sono cresciuti insieme a noi, quindi, dato che il disco è anche una sorta di ripresa di alcuni brani dei nostri epi precedenti, arrivano da cose che ho scritto quando avevo 21 anni, 20-21. Due giorni fa. L'altro ieri, come si diceva. In tv sembra che ne ho 61, quindi... Giulio, come è stato il tuo arrivo in una band? Anche perché tu arrivi da Treviso, sei un po'... Sì, sì, sono di queste... Un rivale? Qua c'è rivalità? No, non c'è. Ci sono campanilismi. Sono arrivato per caso, un po' come tutte le cose che mi sono successe in vita mia, cioè un gran culo. No, la storia è che io ho studiato cinema con Gaia all'università, sempre umiltà, sempre umiltà. La ragazza che ha fatto le grafiche di uno dei nostri lavori è una vicina di casa di Gaia, quindi per via attraverso si sono conosciuta, ha buttato dentro Gaia, gli serviva qualcuno che avesse un minimo di senso del ritmo, ma ha bozzato, e Gaia fa, ma c'è un mio compagno di corso che forse potrebbe... ed eccomi qua. Perché Giulio è Creolo, in realtà, per quello. E noi andiamo di cliché, speravamo che... Io te creo, però... io lo creo. Però in questo caso mi viene da chiedere una cosa. Il vostro, diciamo, tragitto discografico, per così definirlo, come fosse un qualcosa messo sul navigatore, passa per Garrincia, che è una famosa provincia romagnola, no, a questo punto, e passa per degli EP prima di arrivare a quest'album. Certo. Abbiamo fatto un percorso... inizialmente forse canonico, cioè fare un primo EP autoprodotto, cameretta, un po' di aiuto di amici, un po' di soldi messi da parte dalla cresima in poi. Sì, per quello. E poi abbiamo deciso che invece gli EP potevano essere un ottimo modo per fare... per iniziare un percorso anche a livello di composizione, cioè fare un disco subito sarebbe stato forse un po' troppo, non ce la sentivamo ancora, ci siamo voluti arrivare con i tempi giusti e non fare il disco come fanno tutti, che arrivano subito e molto più impreparati di quanto potrebbero non essere. Mi sono perso con i non e con i... Ma non importa, sei stato... Voi avete capito. Sei arrivato alla fine in modo onorevole. Onorevole. Dignitoso. Grazie. E si sa che arrivare da onorevoli alla fine in questo periodo è sempre più difficile a questo punto. Allora io chiederei... Comunque ama farsi chiamare Mattia e non onorevole. Va bene, grazie. Non mi sono montato la testa, sono molto umile come Giulio. Ancora la ragazza giovane di un tempo. Ma... No, quello no. Ma dicevo, Gaia, allora, in tutto il vostro percorso di tour, con tutti i tempi da far combaciare e tutto quanto. Queste canzoni come stanno crescendo? Voi portate sul palco anche delle cover? Portate dentro quello che vi piace in sostanza. Fate un po' quello che vi pare, come nella Casa della Libra. Bravissimo. Te la stavo per dire, bravissimo. Io ho portato dentro Ambrangiolini. Perché mi sembrava giusto inserire qualcosa. Gli altri non importava una renga? No, no, non importava. Assolutamente no. Bene. Ma appunto, in tutto quello che avete portato, se un giorno, che ne so, cambiaste via, decideste di suonare qualcosa di diverso, cosa terreste sicuramente? Sicuramente. Io terrei Mattia, che scrive molto bene. Devo dire, poi non so altre cose. Ma perché sono quello che ha la macchina. Esatto. Tom perché ha un bel basso, quindi direi... E basta, quindi ci teniamo io Tommaso e si torna all'inizio. Mi fa piacere ragazzi, che crediamo. Io non ce l'ho neanche sperato per un attimo che mi teneste. Sherwood 13 e Sherwood Festival, più che altro, è un ecosistema un po' particolare. Non è un posto qualsiasi dove suonare. In questo periodo avete raggiunto addirittura la simpatia di Rocket, avete suonato al Miami. Fai te. Diciamo che vi stanno togliendo un po' di soddisfazioni. Come vi preparate a questo concerto? E per cortesia evitate di parlarmi del Pilates. Che è come vedi dalle palle che stanno girando qua. E ho detto palle non si dice in televisione. Balle neanche. Sfere. Sfere. Allora Zoom, parleremo da Zoom. Come arriviamo a questo live? Arriviamo che ne abbiamo fatti 40 prima, quindi... Arriviamo dall'ufficio. Gaia ha lavorato fino a 10 minuti fa in macchina e dovrà lavorare tra il check e live. Perché Gaia non è sfruttata, vogliamo dire. Vogliamo fare un appello televisivo. Sfruttiamo questo spazio. Liberate Gaia, c'è l'hashtag liberare Gaia o pagatela di più Gaia sempre. E sono due hashtag che vanno molto. Insieme a Sherwood 2013 e l'Orso Band. C'ho una memoria piccolissima. La pesce rosso proprio. E se ne unite tutte e quattro, si vincono dei premi che Momo vi elencherà a fine sera. Gaia averla lavorare per voi. Due giorni gratis, ovunque voi siate a casa. Cari ragazzi, dopo avervi fatto raccontare l'unica storia dell'Orso che è reale, in questo caso io... Daniele. Daniele reale, appunto. Io vi ringrazio. Vi vedremo sul palco presentando il vostro album che si intitola... L'Orso. E dopo questo, eponimia, vi saluto e mando un contributo. Anzi, la regia di Sherwood13 Web TV manderà un contributo. Io ringrazio l'Orso. Ricordate, ore 22, second stage, sempre che restino in piedi. L'Orso.